mangiare troppo fritto ci fa ingrassare mentre mangiare un piatto di verdure ci mantiene in salute ma lo sai anche che mangiare certi cibi ad esempio il dal di lenticchie ci fa sentire felici mentre mangiare troppo peroncino ci può far sentire arrabbiati e aggressivi e mangiare troppo fritto ci fa solo aver voglia di dormire e ci fa sentire pesanti l'ayurveda ci insegna che il cibo che mangiamo ha un effetto sul nostro corpo ma anche sulla nostra mente come scoprilo con il nuovo corso ayurveda a tavola che trovi sul sito lascimiayoga.com